Io vivo qui. Abbiamo la pesca, la caccia e degli incantevoli tramonti. L'unico problema sono le infestazioni. In molti posti hanno topi o zanzare. Noi abbiamo... i draghi. Io mi chiamo Icab. E ho sempre voluto essere un grande vichingo. Perché combattere i draghi è tutto da queste parti. Ah, non se ne parla! Oh, andiamo, fammi uscire. Devo provare il mio valore. Non alzi un martello, non rotte un'ascia. Non sai neanche lanciare queste. Ma questo le lancerà per me. Scusa. Dai creatori di Shrek. Vai forte, Icab. In Madagascar. Buono, drago. Ok. No, no, no. Tutto quello che sappiamo su di voi è sbagliato. Nel 2010. Sta giù! È tutto ok. Astrid? Sdentato? Tu sei proprio finito. Tattara, siamo morti. Un'avventura. Papà, ho deciso che non voglio combattere i draghi. Cambierà due mondi. Tu sei pazzo. E mi piace. Sì! Ti faccio vedere. Piano. No! Grazie tante, eh? Inutile reptile. Da DreamWorks Dragon Trainer. In 3D, in cinema selezionato. Un'avventura. 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 Un'avventura.